Indagini a 360 gradi, come si dice in questi casi. Più realisticamente significa che si brancola nel buio, almeno per il momento. I due attentati alla sede di Confindustria Taranto generano perplessità e preoccupazione. Il tiro si alza dall'incendio del 4 dicembre scorso ai colpi di pistola calibro 9 in meno di un mese. Ora è il momento di passare al setaccio tutta l'attività sindacale dell'Associazione degli Industriali Ionici. Non è facile, non sarà facile giungere ad una conclusione né se ne possono trarre di affrettate. L'attività infatti in questo periodo di crisi è stata ed è particolarmente intensa soprattutto sul fronte sindacale nelle trattative purtroppo quotidiane relative alla chiusura di aziende e salvaguardia dell'occupazione. L'altro grosso lavoro che Assindustria Ionica sta facendo è relativo al controllo dei lavori del porto, lavori milionari che vanno dai dragaggi dei fondali alla costruzione della piastra logistica. Alcuni di questi lavori sono già stati aggiudicati, tutti ad imprese non tarantine, per lo più campane. Il lavoro che attende gli investigatori è vasto e difficile, nulla potrà essere trascurato. Bisognerà, come suol dirsi, fare le pulci in una serie di attività a cui Assindustria si dedica quotidianamente. Si esclude, dopo questo secondo attentato, l'ipotesi dell'atto vandalico per mano del balordo. Questa volta la mano era armata.